La Giunta regionale del Veneto ha approvato un bando pubblico per finanziare nuovi impianti di risalita o interventi di ammodernamento di quelli esistenti, finalizzati lo sviluppo delle aree scissiche interessate degli eventi sportivi internazionali, in particolare le Olimpiadi Invernali, Cortina, Milano 2026. I finanziamenti ammontano a 11,7 milioni di euro e i contributi saranno erogati in conto capitale. Il contributo massimo erogabile è di 4 milioni di euro per la nuova realizzazione e 500 mila per l'ammodernamento degli impianti che già ci sono. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate alla struttura regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR. I Mondiali di Scialpino del 2021 a Cortina, sottolinea l'assessore al turismo Federico Caner, ma soprattutto i giochi olimpici del 2026 richiedono la predisposizione di adeguate infrastrutture nell'ambito anche dell'impiantistica funiviaria. Gli impianti di risalita, oltre ad essere funzionali all'organizzazione delle competizioni sportive, dovranno garantire un servizio qualificato ai numerosi ospiti e turisti che arriveranno alle manifestazioni, migliorando permanentemente la qualità dell'offerta dei territori. Puntiamo, ha detto ancora, a creare nuovi collegamenti tra comprensori sciistici, ora separati, a favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti a fune, stimolando processi di aggregazione tra le imprese del settore. Saranno dunque privilegiate le linee di trasporto che abbiano un rilevante impatto nell'offerta essiva e gli impianti indispensabili per organizzare eventi sportivi di rilievo internazionale.